Oltre alla vicenda Maldini-Massara c'è un'altra storia di un dirigente sportivo in Serie A che trasuda dignità, è quella di Igli Tare. Tare, in attriti e contrasti con Lotito e comunque con il management della Lazio già da diversi mesi, ha annunciato che lascerà la Lazio dopo 18 anni. Tare infatti era passato ad essere direttore sportivo della Lazio immediatamente dopo aver smesso di esserne calciatore. Lunghi anni di militanza, tante operazioni, responsabilità su una gestione che è stata ottima, si sono vinti i trofei, la Lazio è andata anche in Champions League, ha partecipato alle coppe europee. Ci sono state stagioni buonissime sia con Izagi che adesso con Sarri, quindi tante scelte di cui Tare può andare fiero e di cui i laziali possono andare fieri ringraziando Igli Tare. Ma evidentemente certe storie finiscono e finiscono per motivi professionali. Ecco, magari ci saranno anche motivi personali, però Tare non ha avuto problemi, se non magari aspettando e ad andandosene quest'anno invece che l'anno scorso, a rinunciare alla sua posizione, che poteva essere una posizione di privilegiato e poteva essere anche una posizione di, chi se ne frega, scendo a compromessi così mantengo il posto. Cioè pensate, Maldini, ma anche Tare, avevano un contratto e invece di legarsi, avvinghiarsi al contratto della serie, c'è un contratto quindi resto, hanno scelto la dignità e la professionalità. Hanno scelto di rimanere a zero per raccogliere qualcosa in più in futuro da qualche altra parte. Nessuno garantisce a Maldini, a Tare, di trovare lavoro il giorno dopo da un'altra parte, però hanno le qualità, le competenze e mantengono proprio per questa scelta di fare un passo indietro, la professionalità che li fa preferire magari da qualche altro club, da qualche altra squadra. Non so se mi spiego, si tratta di mettere la professionalità al primo posto. Se sei bravo e meriti, qualcuno ti darà valore. Se invece ti aggrappi ad un contratto e non hai altre argomentazioni, evidentemente quel contratto neanche te lo meriti e il fatto di restare è semplicemente per evitare la disperazione di rimanere a piedi. Ma questa non è meritocrazia, non è professionalità, non è serietà e non c'è dignità nel comportarsi così. Non entro nel merito della questione Tare perché ci può stare, cioè si può arrivare a questo punto, la Lazio potrà sopravvivere anche senza Tare, i tifosi potranno essere e sono sicuramente divisi tra pro Tare e pro Lotito, in questo senso, se sono quelli gli schieramenti. L'osservazione da fare la faccio in chiusura sulle tempistiche di questa Serie A. E cioè Tare ha annunciato l'addio appena finita la stagione, Maldini ha avuto un confronto con la proprietà e se ne va appena finita la stagione, Tiago Motta è stato confermato allenatore del Bologna appena finita la stagione, Palladino ha ricevuto il rinnovo e la conferma praticamente alla soglia della fine della stagione e tante altre situazioni che si stanno risolvendo veramente nei primissimi giorni dopo la chiusura del campionato, in tutte le situazioni tranne che in una, la Juventus. La Juventus sembra schiava del contratto di Allegri e quindi si tentenna, si è incerti, non si decide, resta, è confermato, no forse lo mandano via, sondaggi per altri allenatori e intanto si aspetta Giuntoli e il tempo passa. Evidentemente non serve avere il più alto numero di scudetti e un gran numero di trofei nel Palmares e nelle Baccheche per riuscire ad avere una gestione sportiva oculata e seria. Nel senso che squadre, tra virgolette, minori per Blasone e per Ambizioni, oltre che per Monteingaggi e Fatturato, riescono a gestire le proprie cose a livello sportivo molto meglio, con una tempistica molto più convincente. Tornando al discorso di prima, le competenze o ce le hai e le dimostri e quindi vai a meritarti il valore che credi di avere oppure ti resta soltanto una bella etichetta con su il tuo nome, che però vale poco. Grazie.